Siamo qui per i diversi seziendoti a pregare per voi e a pregare con voi. Oggi, Signore, è un giorno speciale, perché due persone speciali si promettono davanti a te il loro amore per sempre. Grazie che li stai unendo nel sacramento del matrimonio, perché sono e siano sempre un esempio d'amore per tutti noi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!